Foppiano di Crodo, 1.217 metri. Questo è il punto d'arrivo davanti all'albergo ristorante. Questo è l'ultimo tratto di strada. La sedita è molto dura. Siamo all'inizio di giugno ma è nevicato molto a maggio e quindi le montagne della Val Formazza sono ancora tutte piene di neve. E questa è la mena concha dell'alpeggio. Grazie. 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 Grazie.